Sale a dieci il numero dei decessi di anziani ospiti nella casa di riposo La Fontanella di Soleto. Si tratta di un docente di francese in pensione molto conosciuto in città ricoverato presso l'ospedale Santa Caterina Novella di Galatina. Il pubblico ministero della procura della Repubblica di Lecce Alberto Santa Caterina ha aperto un fascicolo d'inchiesta per far luce sull'abbandono di persone in alcuni casi non autosufficienti così come denunciato dagli stessi parenti. Si analizzeranno le cartelle cliniche e le cause che hanno portato al decesso dei dieci ospiti. L'Asl di Lecce ha assicurato tutto il supporto necessario per accertare fatti. Anche il ministero della salute ha inviato gli ispettori per verificare la gestione della struttura dal momento in cui è stato accertato il primo contagio lo scorso 20 marzo fino al passaggio nelle mani dell'Asl. Ad oggi si contano 86 persone contagiate tra anziani ospiti e dipendenti. Sono poco più di 30 i pazienti attualmente presenti nella RSA di Soleto. Grazie. Grazie.